salve ragazzi sono master wallace come sempre carico 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 allora sì mi hanno mandato questo questo confronto questa live con c'è rispoli cristo collucci luca prada sui fake fake matter queste cose qua insomma fecnati ho visto perché poi erano due video in sostanza gli ho visti e così mi sento di dire la mia su alcuni argomenti che sono stati discorsi niente di più niente di meno mi sento di dire la mia allora io premetto questo che l'ho scritto anche poi sotto nei commenti io tra i tre devo dire che cristian colucci è quello che ha manifestato più lucidità mentale di tutti onestà intellettuale e ragionevolezza nei ragionamenti cioè io dall'altra parte ho visto ragionamenti o statette cose che per me non stanno nel cielo e in terra quindi veramente ho visto in cristiana una ripeto una grande lucida mentale e onestà intellettuale perché lui ha detto le cose esattamente come stanno e quelle che bisogna dire cioè in sostanza il suo messaggio questo non possiamo diciamo moralmente non possiamo esimersi da criticare quando un un fisico che natura non è mostra ai ragazzi diciamo fa vedere la pubblicità di certi prodotti diciamo integratori facendo che per passare l'idea che quel fisico è il risultato di quegli integratori ecco il messaggio truffa tutto qua ed è tutto evidente è come anche quando i campioni sponsorizzano integratori no questi anche mister olimpia ed è tutto evidente che quei fisici lì non hanno nessun collegamento con gli integratori sono risultato di farmaci quindi far per far credere fa passare l'idea che quegli integratori possono avere un qualche significato in quel fisico è falso è proprio una truffa a tutti gli effetti quindi quello che dice crista dice è inutile che certi fisici paresemente non natura non stiamo a fare nomi destra ma anche paresemente non natura c'è questa gente sponsorizza integratori perché questi integratori qua non hanno nulla a che fare con cui fisici quindi a me mi sembra veramente una cosa molto ragionevole da dire sono delle vere e proprie pubblicità ingannevoli c'è poco da dire per cui quando a filippo dice beh vabbè ma che se non natura che che c'entra che importanza ma come l'importanza già io non veramente non riesco a capire come oppure quando dice io se vedo un fisico che sia dopo parte o dopo atto non mi interessa fra di qua mi entra di là mi esce ma come ti interessa se io veramente non adesso che pista cosa cioè questa è la voglio ripetere la questione di rimente del culturismo un fisico va valutato esclusivamente nella sua naturalità o doping se no nessuna valutazione ha senso cioè parliamoci chiaro è tutto qui cioè se un fisico è tale perché è bombato è evidente che senza dopo in così non sarebbe non sarebbe e allora è evidente che è falso quindi come si fa esimersi da giudizio non so come si possa sostenere questa tesi ecco tra l'altro ecco una cosa che io poi questa poi l'avevo anche già detta poi a filippo quando mi ha fatto il confronto io voglio dire una cosa lui rimarca sempre il fatto no perché poi certi fisici anche se dopo parti non è vero che da natura non si possono raggiungere bisogna lavorare duramente bisogna io stesso prima quando ero nato avevo un fisico vicino a questi fisici qua e tutti mi davo nel dopato però ero natura ok allora la domanda è ma se tu avevi raggiunto questi risultati ottimali da natura che addirittura ti davo del dopato la domanda è perché poi ha iniziato e da tuttora continui perché voglio dire non è che sia una cosa che è così no perché perché uno dovrebbe cioè seduto da natura si può tenere tanto perché poi uno dovrebbe iniziare andare andrati a andare avanti a dritto per 10 15 anni venti a prendere di continuo farmaci anche perché poi se uno non è agonista non è professionista che cosa devi prendere la risposta potrebbe essere perché comunque si mantiene un certo tipo di fisico di performance che come immagine possono rendere molto di più rispetto a un fisico natura da questa è la risposta perché io sono sicuro che ma questo non solo questo non dico solo a filippo ma in questo discorso ho già fatto da faccio da sempre io sono sicuro che chiunque assume e smette veramente di assumere ma quando dico smette dico smette proprio e noi rivediamo questo fisico dopo un anno o in trt fisiologica fisiologica non dosaggi strabordanti o in trt fisiologica o con ripristino dell'assia ormonale difficile quando uno abusa da anni vediamo dopo un anno che cosa rimane di questo fisico se è vero che è dannato lo si può mantenere chissà che cosa vediamo ecco allora uno magari potrebbe anche avvertito di parlare ma se uno mostra continuamente un fisico che è alterato dall'uso del doppio è un fisico alterato quindi è ingannevole queste sono critiche che io faccio sempre in generale ovviamente mi sento di fare anche queste critiche a filippo ma poi glielo ho già detto non è che poi lui tanto accetta qualsiasi critica non ha nessun problema a rispondere nel merito come ha fatto anche quando mi ha fatto il confronto quindi queste sono tematiche che secondo me la tematica del nato non nato nel culturismo è predominante e non c'entra niente gli altri sport è inutile dire sì perché anche negli altri sport ragazzi negli altri sport solamente con il culturismo si vive per il doping ma scusate un attimo uno che si dopo da 15 20 anni non è agonista non è professionista vuol dire che è il suo stile di vita è questo che fa del culturismo una sorta di di dannazione di maledizione negli altri sport è vero che c'è il doping ma li usano per la prestazione per le gare non è che quella gente là è un'altra che smette per tutta la vita e continua a doparsi perché come stile di vita avete capito? è solo il culturismo che rende tossicodipendenti del doping tossicodipendenti non so se mi spiego gli altri sport non c'è questa cosa non esiste quindi quando si parla di culturismo qua e là perché non è ben accettato nelle gare sono quattro gatti ma per forza la gente sa benissimo che il culturismo quando voi da chiunque dite guarda quello chi è quello culturista? ah quelli bombati che prendono gli sterodi gonfiati la gente dice questo ma è falso? no è la verità quindi non stiamo a nasconderci dietro un dito perché questa è la realtà delle cose e chi usa contribuisce a mantenere questo stato delle cose punto perché lo voglio ripetere se è così se uno col lavoro duro con la dedizione può avere un ottimo fisico da natura perché uno dovrebbe iniziare a bombarsi a dritto per anni anni e anni anche la soglia dei 40 anni continuare a doparsi perché allora un po' voglio dire un'altra cosa no perché un po' mi sono segnato vari argomenti sì allora il discorso del perché il discorso ecco per esempio anche Luca spesso dice no perché tanto ogni cosa c'è il suo lato oscuro dobbiamo abituarci a questa cosa per esempio poi sono stati fatti esempi degli esempi di scarpe dei calciatori che ne so ma che sono cose che non c'entrano niente dov'è il lato oscuro se Ronaldo fa vedere una marca di scarpe e le pubblicizza dov'è il lato oscuro dov'è il lato oscuro Ronaldo è campione e pubblicizza scarpe non è che un ragazzino pensa che usando quelle scarpe diventa come Ronaldo non ha alcun senso questa cosa ma nel culturismo è l'esatto opposto nel culturismo il messaggio è questo cioè il campione o l'influencer Bombarolo si fa vedere con un certo tipo di fisico artificiale e poi dice io uso questo uso quest'altro quindi il messaggio è prendete queste cose diventerete come me che è falso è falso allora questa cosa qua è assolutamente criticabile e deve essere criticata perché non può essere altrimenti per questo ho detto che Cristo per me è stato l'unico lucido e onesti intellettualmente c'è da dire che Cristo è anche in una posizione abbastanza privilegiata e vi spiego per te perché come potrei esserlo io qual è la posizione privilegiata che lui è assolutamente natural e quindi non è in contraddizione permanente con se stesso e quindi può parlare di queste cose perché è libero dalla contraddizione di vivere il doping su se stessi in modo permanente io stesso ne posso parlare perché non vivo nella contraddizione del doping permanente quindi ne posso parlare allora sul discorso integratori infatti io vorrei dire questo per esempio io che li uso da 40 anni integratori ma veramente tanti poi adesso anche quella dell'integrazione anti-eggi che è tutto un altro mondo questa è letteralmente sconosciuta la gente ma è importantissima allora ecco per esempio su di me permetto che io non ho mai sponsorizzato nessun prodotto niente quindi io veramente credo di essere mi argo questo questo pregio di essere chi una persona che l'esperienza che ha su integratori credo che sia unica al mondo perché li uso da 40 anni il fisico che ho costruito e attenzione io non ho mai detto che l'ho costruito grazie agli integratori io ho detto che gli integratori mi hanno aiutato a costruirlo è diverso io ho sempre detto che la base per un grande fisico sono l'allenamento e la nutrizione allenamento che nessuno sa fare veramente e la nutrizione queste sono le basi dopodichè io ho sempre detto chi mi conosce mi ha seguito sa che ho sempre detto che gli integratori vi danno qualcosa in più sono il turbo dei natural e questo mi permette di andare un pochino più su di livello non è che gli integratori da soli possono fare miracolo però in un fisico naturale gli integratori sono un turbo che danno un vantaggio rispetto a chi non li prende quindi io se io sponsorizzassi un integratore potrei benissimo dire con condizioni di causa e nella verità potrei dire grazie a questo integratore o questi integratori sono riuscito a migliorare il mio fisico questa sarebbe una cosa vera reale ma sarebbe un tizio bombarolo che sia campione o non campione con un fisico artefatto con vascolarità artefatte che cosa dovrebbe rappresentare quel prodotto lì su di lui che cosa dovrebbe rappresentare non so e poi quando viene detto no perché la gente è cretina quindi è giusto che venga presa in giro un po' come un discorso famoso ma che fece qualcuno all'epoca la gente è cretina bisogna approfittare se non lo faccio io lo faccio un altro per me questo è un discorso moralmente inassettabile può anche essere vero che la gente è cretina ma il fatto che tu te ne approfitti è moralmente sbagliato che esempio è questo non mi sembra una cosa un messaggio da dare approfittate dei deboli dei cretini approfittatene questo è il messaggio che dobbiamo dare non lo so quindi queste cose lasciano veramente molto molto perplessi aggiungo anche che aggiungo anche che poi a parte il discorso estetico ma il discorso del doping vale anche per le prestazioni cioè io ho visto i video ho visto vari video di prove di forza ho visto Filippo quando ha fatto una gara di forza c'era anche Cristian guardate che Cristian essendo nato spinge forte perché di pacca fa un bel 150 io mi chiedo se è una domanda che faccio a Filippo non supportato ma proprio non supportato fermo da un anno so che lui ha fatto 160 di pacca ecco quanto faresti? io credo che Colucci sarebbe più forte secondo me adesso su Luca lasciamo stare l'ho fatto 421 di stacco anche lì ovviamente la domanda è da un supportato quale sarebbero le reali performance punto di domanda quindi vedete come veramente il discorso abbraccia un po' tutto poi adesso voglio chiudere con una cosa che mi ha fatto un po' sorridere no ce n'è un'altra prima quando si parlava ah sì Filippo diceva no perché io ho seguito un protocollo di Polikin Polikin allenare le gambe sei giorni a settimana allora Polikin era un noto preparatore d'oltreoceano Bombarolo conclamato pure lui poi è anche morto comunque e ora io cioè il fatto di allenare le gambe sei giorni a settimana ragazzi io vi dico una cosa non vi consiglio mai di provarsi perché penso che andresti in uno stato tale di di sovranamente cacchessia gravissimo che veramente mi sembra una cosa senza senso dopodiché perché è questa mentalità sbagliata cioè allenatevi il più possibile dovete vomitare ma chi l'ha detto a parte che non esiste che uno debba vomitare in palestra non stiamo scherzando a questo punto le palestre dobbiamo stare sempre a pulire i pavimenti pieni di conatti di vomito che discorsi sono io ho mai vomitato almeno una volta in palestra e nemmeno i campioni lo fanno ve l'assicuro ma questa storia di allenarsi il più possibile perché è così che si vede la determinazione la motivazione è falso cioè è un errore perché questo è l'errore più grande che fanno i natura credere che allenandosi il più possibile e il più frequentemente possibile senza recupero sia la chiave per i risultati è l'opposto è la chiave per non avere risultati è la chiave per non avere i risultati da natura devi fare sedute non troppo frequenti e non esagerate ma adesso qui entriamo in un discorso tecnico un po' particolare ma comunque nessuno deve uscire strisciando dalla palestra o vomitare sono cose che non hanno alcun senso quindi non sconsiglio di farlo ecco no la cosa che mi ha fatto un po' sorridere è questa ma lo dico con simpatia scherzando perché non me l'aspettavo mi è sembrato un po' così una caduta di stile quando Filippo per glorificare la potenza di arginina e citrullina in termini suppongo erettivi di ossido nitrico non so ha citato un aneddoto che una sera doveva uscire con un escort così ha detto e siccome era molto stanco dall'allenamento era veramente distrutto ha preso un integrato un prodotto che c'era dentro un sacco di arginina e citrullina e ha detto che lì per forza è stata eccezionale io sono contento per lui mi fa veramente piacere che la serata è finita in questo modo però vorrei dire due cose la prima no vabbè la escort la escort per definizione se andate a vedere la definizione è una è una signora che è molto piacente che fa da accompagnatrice guida turistica per cene gala poi c'è scritto per estensione disposta ad avere rapporti sessuali a pagamento allora oddio non è di male è tutto legittimo però così sono uscito con una escort cioè una che poi alla fine non è anche pagata così non mi sembra credo po' che Filippo è un bell'uomo un bel ragazzo non credo che mi sembra strano ecco mi avesse detto sono uscito con una bella ragazza proprio escort così vabbè mi ha lasciato un po' perplesso ma ripeto nulla di male nulla di illegittimo si mancherebbe ecco però il discorso che poi la performance grazie alla genina citrullina è stata esaltante qui mi permetto di dire la mia buon per lui si è andata così e siamo contenti ma io vi dico una cosa se un atleta è natural e non è supportato da livelli esogeni di testosterone attenzione perché il testosterone a livelli esogeni alti inibisce anche il cortisolo e mantiene la libido alta allora io posso anche credere che uno si sia allenato duramente alla sera con la escort abbia fatto bella figura si è supportato perché se uno non è cioè se uno è natural vi dico questa cosa qua se uno è natural si è allenato si è allenato le gambe in maniera molto dura sapete che l'elemento delle gambe è fatto bene cioè vi lascia molto molto affaticare ma tanto eh il cortisolo è alto inevitabilmente il testosterone è sotto i tacchi perché è così nei natura ecco la libido è bassa dubito che una serata con un escort grazie alla genina e citolina possa diventare esaltante dubito fortemente tutt'al più quello che potrebbe aiutare sono farmaci potenti che aiutano l'erezione ma qui dovremmo andare sui farmaci quelli potrebbero dare un senso ma poiché la genina citolina o un contesto simile in una teta naturale possa far miracoli credetemi ho dei grossi dubbi eh ma mi fermo qua su questa cosa eh quindi in definitiva ragazzi io vi voglio dire questo purtroppo qui c'è ecco questo discorso qua anche quando un po' dopo si dice no perché alla fine qui uno si alza la mattina va a youtube c'è solo dissing a destra manca tanto non è così non è così ci sono tanti contenuti tecnici io ne ho fatti tantissimi ne faccio tantissimi dopodiché il mio dissing è basato sul fatto proprio di della lotta al doping cioè di far capire ai ragazzi come stanno le cose non di dire cose in reali forvianti ma di far capire la verità quindi questo secondo me è un compito che deve esserci non è un dissing fine a se stesso come fanno in quelle trasmissioni che si vedono in tv non so gli amanti questo ex fidanzato queste sono veramente cose che la gente le guarda proprio così perché non sa cosa fare ma nel nostro mondo andare a criticare le falsità i castelli di sabbia credo che sia che sia giusto farlo ecco quindi secondo me ripeto Cristo è stato molto lucido intellettualmente onesto e soprattutto la sua forza era che era libero da contraddizioni libero da contraddizioni perché se tu sei se io sono in un contesto vi faccio questo esempio qua è un po' al limite un po' al limite ve lo faccio io faccio un dibattito con un gruppo di persone di cui queste persone sono sono conclamate in un certo comportamento sbagliato non sto a dire quale ma poniamo che sia un comportamento molto sbagliato potrei dire anche criminale io sono l'unico che non sono in quel contesto allora in quel dibattito lì secondo voi io che cosa mi potrei aspettare da questo gruppo di persone che mi danno ragione quando loro stessi vivono in questa contraddizione vivono in questo mondo che cosa dovrebbero dire avete capito come è il discorso cioè uno per parlare liberamente di un argomento non deve essere in contraddizione con se stesso altrimenti se uno è in contraddizione possiamo parlare fino a domattina ma i dati di fatto sono che sei in contraddizione punto bene mi fermo qua ragazzi e vi ringrazio attendo le vostre le vostre critiche al top